Palinsesto ricco di eventi a Montorio per il periodo di Natale. Sì, sarà un Natale come sempre molto ricco, grazie all'impegno soprattutto delle associazioni a cui noi diamo chiaramente seguito come assessorato alla cultura. La Proloco, come al solito, realizzerà una serie di concerti quest'anno al Cineteatro perché la Chiesa di San Rocco a breve sarà pronta ma non abbastanza per poter ospitare dei concerti. Partiremo, già abbiamo avuto un paio di eventi con l'interammia musicale, ensemble e con la banda di Montorio adesso invece dal 27 ci sarà il concerto della corale Voxani Memea dopodiché il 4 gennaio avremo il Marsican Brasset Quintet, il 13 gennaio il Foto Magico e chiuderemo il 27 gennaio con Marcello Graduato che è un artista del nostro paese che ha realizzato una canzone e un suo disco che presenterà proprio in quell'occasione. Eventi quindi non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti? Sì, tra l'altro oltre a questi concerti quindi con una indicazione più musicale ci sarà anche lo studio in piazza, il gioco che tanto è conosciuto a Montorio al Vomano un torneo che arriverà alla finale del 6 gennaio che tiene occupati tutti i bar e i montoriesi stessi in questa bellissima iniziativa e vorrei poi sottolineare questo aspetto il 27 di dicembre c'è oltre al concerto alle 18 del pomeriggio la presentazione di un libro dedicato a Mastro Ugo che è un personaggio Ugo D'Antonio molto caro ai montoriesi che non c'è più da diverso tempo che ha comunque offerto diversi spunti è una persona che ha lavorato alla radio, che ha scritto quindi lui si definiva uno scrittore di contrabbando perché era una persona comunque molto creativa che ha dato tanto a Montorio e noi lo vogliamo celebrare con un volume dove ci sarà anche oltre alle sue poesie, ai suoi aneddoti ci sarà anche un DVD che raccoglierà delle sue interviste e dei suoi passaggi alla radio e dei suoi passaggi alla radio e dei suoi passaggi alla radio